salve amiche ed amici dal vostro senten chan innanzitutto grazie per seguirmi così in tanti in instagram che siete migliaia e poi grazie di seguirmi in youtube abbiamo superato quota 100mila visioni del canale stiamo a quota 100mila e 700 e passa e grazie per i tanti like che ogni giorno mi date che mi incitate mi spronata ad andare avanti a fare sempre meglio sto preparando molti argomenti molti temi da esporre molti altri li continuerà a portare avanti ma grazie che state mettendo dei like ai miei primi video che ho fatto con tanta dedizione cercherò di proporvi del materiale sempre nuovo è sempre migliore cerco di rinnovarmi sempre quindi un saluto a tutte e tutti quelli che commentano i miei video che gli mettono mi piace che mi appoggiano e che si iscrivono al canale io se posso mi iscriverò a loro a volte non so e non appare nella lista degli iscritti che si iscrive al mio canale allora mettete un commentario in un mio video dicendo mi sono iscritto eccetera non so adesso saranno le 18 e 37 2 marzo lunedì 2015 quindi il 2 di marzo 2015 18 e 37 è ancora molto chiaro chissà che cosa fate voi di solito oltre a vedere i miei video e mi piacerebbe se voi mi mi fate delle video risposte mettete il link del vostro video risposta nella risposta del mio video così io faccio clic e lo vedo poi mi piacerebbe collaborare con voi fate dei video in common creative così io poi editando il video con youtube cerco in common creative il titolo del vostro video e lo annetto al mio così facciamo un video tutti insieme tutti i miei seguaci che facciano dei video in common creative io voglio fare un video fondendo addizionando il mio video a tutti i loro video così viene un unico video con tanti clip come doveva essere italina dei e quindi ancora una volta io vi ringrazio di seguirmi e al più presto farò dei video adesso sono di passo sono stato tutto il giorno fuori casa e quindi non ho fatto nulla ultimamente faccio meno video ne devo fare di più come all'inizio però sto cercando di fare con dei temi interessanti e non semplice chiacchiere o di vacazioni perché cerco di perfezionarmi quindi grazie di seguirmi a tutte e tutti voi e un arrivederci ciao dal vostro santa in cian